Fino al 9 gennaio è visibile nella sala incontri dell'Ufficio in relazioni con il pubblico del Consiglio regionale la mostra Paesaggi Piemontesi, curata da Gruppo Volverarte 2013 dell'Unitredi Volvera. In rassegna opera acquerello, olio, acrilico, inchiostri colorati, fotografia creativa e anche collage. I soggetti rappresentano il Piemonte più conosciuto, come le vette del Monviso, le colline del Monferrato, il capoluogo turinese e la campagna piemontese. Come mai i piemontesi dovrebbero venire a vedere questa mostra? Beh, innanzitutto perché è proprio il titolo stesso che le richiamo, il paesaggio piemontese, i scorci del Monferrato, i scorci delle Langhe, i scorci della Via di Torino. E poi c'è una certa atmosfera che crea un pompatos, nel senso che si vedono le vigne, si vede l'uva, si vede dei tramonti, si vede i campanili, si vede anche l'amore antonegliana.